Salve a tutti e bentornate all'angolo della Libraia. Oggi parliamo di A bocce ferme, il nuovo caso dei delitti del parlume di Marco Malvaldi. Marco Malvaldi è nato a Pisa nel 1974, si è laureato alla normale in chimica e si è diplomato al conservatorio. Ha tentato la carriera di cantante lirico ma non ha avuto successo ed ha iniziato a lavorare come chimico. Nel 2007 ha esordito come romanziere e non ha più smesso di pubblicare, tanto che nel 2013 ha vinto il premio letterario La Torre Isola d'Elba. Malvaldi è divenuto famoso per la sua serie di gialli I diritti del parlume, da cui la Rai ha anche tratto un telefilm, non spiacevole ma a mio parere assolutamente non all'altezza dei libri. Si tratta di sette romanzi, a bocce ferme appunto il settimo e svariati racconti usciti nelle antologie tematiche della Sellerio e inoltre autore di numerosi saggi e di cinque romanzi stand alone. Passiamo ad A bocce ferme. Le vacanze di Natale si sono concluse da pochissimo e Pineta sta tornando al solito trantranno. I quattro della banda della maglia di lana, ovvero i vecchietti Aldo, Ampelio, Pilade e il Rimediotti, sono alquanto annoiati vista l'assenza di notizie interessanti sul versante cronaca nera. Massimo invece è piuttosto nervoso e tende a scattare con tutti. Il problema non è solo che sia Aldo, suo ex socio, che la sua fidanzata, il vicequestore Alice Martelli, tendono a mettere il naso nelle questioni pratiche relativi al bar, quanto piuttosto il desiderio di maternità di Alice, che lui decisamente non condivide. In questo clima teso arriva provvidenzialmente un caso da risolvere, solo che stavolta si tratta di un cold case, cioè di un delitto avvenuto 50 anni prima e, presumibilmente, di carattere politico. E chi meglio dei vecchietti può ricordare il clima che si respirava all'epoca dei fatti in pieno 68? Ma un nuovo omicidio dimostra quanto si allunga l'ombra di quello vecchio e l'indagine si fa ben più complessa del previsto. Dunque, se confronto il nuovo romanzo della serie del bar lume, con l'ultimo giallo stand alone di Malvaldi negli occhi di chi guarda, non posso che rallegrarmi del miglioramento. Tuttavia, se il paragone lo faccio con i precedenti volumi della stessa serie, la sensazione è che l'autore si sia seduto sugli errori. Allori. Certo, anche in questo nuovo giallo ci suoni ironia, dialoghi brillanti e bei personaggi, sempre più approfonditi e perfettamente coerenti. Tuttavia, i passaggi dell'indagine sono piuttosto confusi e le descrizioni del clima 68 faiono togliere quella leggerezza che in passato aveva invece caratterizzato la serie. Dunque, un miglioramento rispetto al penultimo Malvaldi, ma ancora lontani dai suoi romanzi più riusciti. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci rivediamo presto qui all'angolo della libraria. Ciao!